ciao ragazzi ciao ragazze oggi mukbang minestrone anzi passata che l'ho fatta io con il minestrone quello dell'eurospin adesso mangio e assaggio che buono io vado matta per il minestrone anche il cameraman vero signora Sara quello che va meno matto è il buono il regista c'era una mosca ragazzi siamo invasi dalle mosche io non capisco come facciamo aiuto cioè ma come facciamo pieno di mosche ma dappertutto vai in macchina ci sono le mosche vai dalla signora a trovare una signora ci sono le mosche vai al supermercato ci sono le mosche la mosca sulla sul coso oggi sono dappertutto ci sono i quelli come si chiamano la carta moschicida che è piena di mosche io non sopporto quando vengono nelle orecchie quando ti passano vicino nelle orecchie ecco quello è una cosa che non supporto poi le moschie vanno nella va bene e poi si posano sul mangiare si posano addosso a te se n'è una che adesso sta per morire sulla carta moschicida che fa io quando è così muori in silenzio no perché le mosche portano anche malattie cioè nel senso che è un schifo pazzesco parliamo di altre cose ho detto di parlare di altre cose mannaggia ce l'ho dentro qua mamma mia non le sopporto perché sono anche antipatiche ti prendono in giro ti prendono lì ti prendono in giro sembra che te lo facciano apposta non lo so non so come possiamo eliminarle vorrei eliminarle per sempre io intanto ho finito il minestrone anche perché era poco comunque parliamo ancora un po' perché sennò è un video morto proprio un video terra terra comunque stavo dicendo delle mosche stamattina mi avete fatto una spesa ah no l'ha fatto a Michele ma l'ha fatto a Michele ma l'ha fatto 4 cose è andato al Penny giro a Domodossola non ha preso tanto eh posso dirlo così senza neanche farlo vedere ha preso la Nutella ha preso i tuk ha preso dei crackers che sembrano tuk però la peni la marca peni Poi ha preso una pizza, una cosa di pizza, però la mangiamo domani, sempre del Penny. Poi ha preso due litri di latte, ha preso sei bottiglie di Coca-Cola. Poi un attimo ancora ha preso il formaggio, i formaggini. Poi ha preso, no l'acqua non l'ha presa. Ha preso... I biscotti. I biscotti. I pancake. No, i pancake l'ho fatto io. Ha preso praticamente il formaggio, quello da grattare. Ha preso un salamone così grosso. No, scusami, ho fatto un salamone grosso. Poi cos'è che ha preso ancora? Basta. Basta. Non so più niente, no. Ok, io mi ricordo... Ah, ecco gli amaretti. Ecco, c'era qualcosa che avevamo preso. Gli amaretti. Il latte. Eh, l'ho detto, due litri di latte. Già un litro è andato, quasi. E basta, perché noi beviamo un sacco di latte. Con il caffè. Caffè latte. Niente, qua... Era buono il minessone comunque. Cioè, diciamo, cambiamo discorso. Era buonissimo, era quello dell'orospine. Mi sembra che c'erano 15 verdure dentro. Poi, io ho aggiunto la patata, per farlo bello fisso. E poi, ho aggiunto anche l'aglio e la cipolla. Cosa stai facendo? L'aglio e la cipolla. E poi, ho frullato tutto. Non l'ho messo dentro il dado. Ecco cosa non mi sono ricordata di mettere dentro il dado. Vabbè, fa niente, è venuto buono lo stesso. E niente. Il video è finito. Se vi è piaciuto, mettete like. Iscrivetevi al mio canale. E attivate la campanella. Ciao, ciao.